Avevo delle aspettative alte su come sarebbe stato, su come sarebbe potuto essere e in effetti sono state addirittura superate. È stato fantastico perché è un corso che combina la teoria, una buona e solida teoria, alla pratica perché noi abbiamo incontrato esperti, persone che comunque ci spiegavano la pratica, la vita in azienda. Non tanto in termini accademici ma proprio in termini concreti, reali, con casi studio, quindi con la possibilità di approfondire veramente cosa sta accadendo in questo contesto e cosa significa fare sostenibilità. Mi sono appassionata a temi diversi, nuovi e soprattutto è interdisciplinare. Ti porta a conoscere tutto, a vedere i collegamenti, le interconnessioni. Volevo ringraziare veramente il grande team di EIS perché mi ha aiutato a realizzare il mio sogno che è quello di lavorare nel campo della sostenibilità. Questo corso mi ha permesso di capire le cose ambientali a livello nazionale italiana, anche a livello internazionale. Mi ha permesso di avere una connessione con altre realtà, altri cittadini italiani che vivono qua. La possibilità di avere esperienza nel campo e questo mi ha dato l'opportunità appunto di trovare lavoro in un team di una grande società che è il team di Sustainability Strategy. E questo corso mi ha permesso anche di avere un livello molto più alto dal punto di vista lavorativo, anche una promozione.